Ciao e bentornato ai Paperless Video Podcast. Prima di iniziare ricorda di iscriverti al nostro canale per non perdere nessun video. Oggi parleremo di SERCQ, ossia del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, uno dei servizi fiduciari previsti dal regolamento europeo EIDAS, e vedremo come questo servizio potrà in un futuro non molto lontano affiancare e forse sostituire la PEC. Il SERCQ è un servizio che consente la trasmissione di dati tra terzi tramite posta elettronica o altre modalità di recapito elettronico, assicurando nell'evidenza legale e fornendo prove relative all'invio e alla ricezione dei dati trasmessi, proteggendo nel contenuto da eventuali modifiche non autorizzate. Nel regolamento europeo EIDAS l'articolo 44 precisa che il servizio di recapito certificato qualificato deve essere erogato da un prestatore di servizi qualificato. Inoltre deve garantire un elevato livello di sicurezza rispetto all'integrità dei dati trasmessi, apponendo una firma elettronica avanzata o un sigillo elettronico avanzato sull'invio e la ricezione dei dati. I SERCQ sono in grado di assicurare l'identificazione sia del mittente sia del destinatario, raggiungendo il grado più alto di sicurezza e trasparenza della comunicazione, nel rispetto dei requisiti più elevati individuati dal regolamento EIDAS. Se ti interessa saperne di più e rimanere aggiornato, clicca sul link in basso per leggere il nuovo blog post. Grazie e arrivederci al prossimo video podcast!